Lunedì pomeriggio in via Valmaura gli agenti della polizia in servizio di perlustrazione notano un giovane conosciuto come assuntore di stupefacenti uscire da uno stabile. L'uomo accortosi della loro presenza goffamente cerca di nascondersi dietro le macchine in sosta. Viene scovato, perquisito e trovato in possesso di circa 9 grammi di marijuana. Individuato l'appartamento da dove il ragazzo era uscito, effettuata una perquisizione ed intesa con il PM, gli agenti vi trovano un 19enne con precedenti specifici che sembra particolarmente nervoso e in cucina una 37enne, anche la gravata da precedenti, ferma vicino al secchio dei rifiuti. In soggiorno sul tavolo 80 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, il cellofan utilizzato per confezionare le dosi, nel secchio della spazzatura due involucri con circa 200 grammi di marijuana, nella camera del giovane altro quantitativo di droga e in tutto 2200 euro in banconote da piccolo taglio custodite fra portafogli, scatole di medicinali e sotto un cuscino. Tutto il materiale è stato sequestrato, il 19enne è stato arrestato e poi condotto al coroneo. La donna è stata denunciata in stato di libertà per i medesimi reati di detenzione di droga ai fini dello spaccio.